Massimiliano Capretta, pronto a rappresentare l'Abruzzo giovedì 23 alla prova del cuoco su Rai 1? Pronti, sicuramente partiamo sicuri di noi stessi, emozionati perché logicamente la diretta porta emozione perché un conto è registrare ricette, un conto è eseguirle in diretta, sicuramente saremo emozionati. La cosa che mi dispiace è che non possiamo vincere con una giuria che ci giudica ma vinciamo con il televoto quindi noi faremo dei piatti, portiamo il territorio, tutta materia prima locale e sta a voi televotarci insomma. Massimiliano parteciperà a questa gara insieme alla sorella Dalila, giusto? Quindi possiamo fare un appello ai telespettatori e a tutti gli abruzzesi per votare l'Abruzzo. Ci hanno chiamato a questa rubrica che si chiama il campanile e andiamo io e mia sorella, come dicevo prima questa volta sfidiamo la Liguria, speriamo di vincere così giovedì prossimo riporteremo l'Abruzzo alla prova del cuoco e questo è il nostro intento e sfidare ancora nuove regioni, sempre con la nostra materia prima, con l'umiltà che abbiamo, speriamo di farcela. Gratificazioni importanti poi per te già sono arrivati dalla guida dell'Espresso con un punteggio importante così tanto da farvi entrare nella top 10 ristoranti abruzzesi. Sì, quest'anno l'Espresso ci ha premiato con un bel punteggio, noi ringraziamo tantissimo e sono anni che eravamo lì e finalmente ci hanno gratificato con questo premio. L'appuntamento quindi per giovedì 23 dalle 12 fino alle 12 e un quarto perché poi avete pochi minuti a disposizione per battere in questo caso la Liguria. Sì, la rubrica dura 20 minuti, 30, però il televoto sarà concentrato in 15 minuti. In questi 15 minuti dobbiamo essere uniti, tutta la regione, quello che noi chiediamo, di essere uniti su questo televoto e anche chi non è davanti al televisore può comunque contribuire al televoto. Chiamando telefono fisso 894 222 codice 2 oppure inviando un sms al 4784784 codice 2. Ripeto, anche se non siete davanti al televisore, se vi segnate il codice potete contribuire alla vittoria nostra e della regione Abruzzo. Albadriatica sarà con noi e speriamo di farcela.